Benvenuti nella guida su Business Source Complete della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Come prima cosa vedremo nell'introduzione cos'è Business Source Complete e come accedervi. Vedremo la ricerca avanzata e quali filtri possiamo applicare per fare ricerche più specifiche. Analizzeremo come vengono presentati i risultati e come poter scaricare il full text degli articoli. Quindi vedremo la ricerca col Tesaurus. Come ultima cosa vedremo le funzioni personalizzate che servono per salvare in modo permanente le ricerche. Business Source Complete è la banca dati bibliografica più importante per l'economia. Comprende ambiti tematici come business, marketing, management, contabilità e finanza. Accediamo alla banca dati full text in virtù dell'abbonamento sottoscritto dalla biblioteca con EBSCO. Vengono indicizzate riviste accademiche anche peer review e riviste di settore con una copertura dal 1886. La stragrande maggioranza degli articoli sono in lingua inglese, quindi è preferibile tradurre i termini di ricerca in inglese.